martedì 13 dicembre ben trovate amici amici bianconeri qui sul mio canale giorno di santa lucia come si suol dire la notte più lunga che ci sia ora non so se sia la notte più lunga ma certamente è stata una giornata piuttosto lunga sveglia presto partenza presto viaggio piuttosto lunghino attraverso l'appennino con nebbia acqua mista neve neve stessa ghiaccio insomma un po di tutto per arrivare qui a destinazione dal location dalla quale vi trasmetto i miei video questa settimana che arriveranno presumibilmente in tardo pomeriggio prima serata per fare il punto della situazione sul mondo juve mondo juve che oggi fa registrare una piccoli piccoli aggiornamenti sulle indagini titolo di video di quest'oggi quindi aggiornamenti indagini juve vlaovic e cherubini prima di proseguire grazie sempre per il seguito che date al canale grazie per il sostegno se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale azionate la campanella e se sarete rimasti soddisfatti del contenuto mi raccomando il vostro like in fondo la puntata doverosa precisazione sul video di ieri perché preso dall'enfasi di diciamo per la lettura delle motivazioni del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato sostanzialmente l'istanza di custodia cautelare nei confronti di agnelli e compagnia ho dato l'impressione così ripeto preso dall'enfasi quasi come la juventus fosse stata prosciolta in realtà non è ovviamente così semplicemente il jeep ha rigettato le l'istanza di custodia cautelare chiesta nei confronti di agnelli e compagnia detto questo l'ho fatto ovviamente per sottolineare la netta contrapposizione tra l'enfasi invece mostrata dai giornali dalle testate giornalistiche dal web da tanti giornalisti che dovrebbero informare e che invece si sono fatti prendere così da un sentimento di tifo contro la juventus elargendo le più sparute e disparate sentenze verso le quali la juventus eventualmente sarebbe potuta andare incontro e allora preso dall'enfasi probabilmente mi sono lasciato andare a termini errati la juventus ovviamente non è stata prosciolta semplicemente c'è stata un rigetto da parte del jeep dell'istanza di custodia cautelare peraltro aggiornamento di oggi la procura della repubblica di torino ha rinunciato all'appello contro il jeep ritenendo evidentemente attraverso le dimissioni del cda che non sussistono problemi non sussistono pericoli di riterazione del reato di fuga o di inquinamento delle prove motivo per cui il diciamo l'aggiornamento odierno prevede la conferma della diciamo del rigetto delle istanze di custodia cautelare come dicevo nei confronti di andrea agnelli e soci detto questo prendiamo atto dei prossimi dei prossimi step ovvero quello del 19 di dicembre nel quale si dovrà decidere sulla richiesta della juventus di trasferire il procedimento dal tribunale di torino a quello di milano sede della borsa motivi per i quali la juventus vorrebbe essere giudicata dal tribunale di milano e poi successivamente a febbraio quando ci sarà eventualmente il rinvio giudizio o diciamo l'istanza a non procedere nei confronti della juventus facciamo il punto della situazione invece per quanto riguarda dusan blauvic che è rientrato oggi al continassa un dusan blauvic che ci aveva lasciato con afflitto da problemi di pubalgia con una sorta di preoccupazione mista a dubbi sulla sua diciamo attività conservativa in vista del mondiale mondiale che però non lo ha visto protagonista mondiale che lo ha vista anzi protagonista tra virgolette in negativo di poco minutaggio proprio per i motivi per i quali aveva saltato le ultime quattro gare di campionato con la juventus juventus che viene da sei vittorie consecutive quattro delle quali appunto senza il suo attaccante di spicco senza il suo attaccante titolare motivo per cui io lo dico molto francamente ovviamente spetterà a chi di dovere a chi preparato a chi dedito a valutarne giornalmente le condizioni sul campo e quindi la mia è semplicemente una sensazione non ho informazioni in merito anche perché oggi soprattutto poi alla juventus vi sarete resi conto come sia difficile poter dare delle informazioni in merito alle condizioni di salute dei tesserati bianconeri perché vige un rigido un ferreo diritto alla privacy quel diritto alla privacy violato più volte con il lo abbiamo detto nei giorni scorsi con l'aver sbattuto su tutte le testate giornalistiche stracci di intercettazione di frasi di discorsi privati tra elementi che molto spesso anzi nella stragrande maggioranza dei casi per non dire nell'assoluto computo dei casi ha servito a distorcere il significato della frase stessa e quindi questo diritto alla privacy ci vieta di capire esattamente quelli che potrebbero essere i tempi di recupero quelli che sono le reali condizioni di un giocatore per il quale io comincio a nutrire dei dubbi delle perplessità nel senso che la pubblicia è una chiamiamolo infortunio anche se poi in realtà non è un infortunio è un problema serio un problema del quale non dal quale non è non è facile guarire sembrava peraltro il giocatore ne aveva già sofferto nella passata stagione potesse aver risolto i propri problemi allora quando lo ricorderete nel corso della preparazione estiva aveva svuoto una sorta di programma differenziato che loro hanno riportato poi ad una fase iniziale della stagione così in una condizione che apparentemente sembrava essere quella di un giocatore molto più simile al giocatore che la Juventus acquistò dalla Fiorentina che non ha quello visto un pochino legnoso macchinoso involuto o nervoso diciamo così in bianconero molto spesso da questa situazione si può venirne a capo o con il riposo o anche con con un intervento chirurgico non sto dicendo che Vlaovic sarà sottoposto ad intervento chirurgico perché lo ribadisco c'è la più assoluto riservo sulle sue condizioni non è dato a sapere esattamente come verranno trattate se non attraverso un programma differenziato è chiaro che io comincio a nutrire delle perplessità visto che il problema si protrae e non ancora non pare essere stato risolto cosa succederà a Vlaovic beh io intanto sono già certo che Vlaovic verrà accostato ai nomi dei più grandi club europei in virtù del fatto che non sta attraversando un grandissimo periodo che il suo valore di mercato potrebbe essere sceso e che potrebbe far gola data la giovane età e comunque le sue qualità riconosciuteli da diversi direttori sportivi diversi club top club europei essere accostato appunto a questi club e quindi prepariamoci ad una possibile corsa all'accapparrarsi le prestazioni sportive di Vlaovic a partire dalla sessione di mercato estiva di giugno e non escludo e lo dico molto francamente non escludo che a fronte di un'offerta che consenta alla Juve ovviamente di non fare nessun tipo di minusvalenza ma di liberarsi anche di un ingaggio piuttosto pesante non escludo che a fronte di questa offerta congrua la Juventus possa anche prendere in considerazione una sua eventuale cessione però al momento siamo nel campo delle sensazioni ripeto non ci sono indicazioni mirate che mi facciano pensare che sicuramente Vlaovic sarà operato che sicuramente Vlaovic non parteciperà alla seconda parte di campionato né che sicuramente Vlaovic sarà ceduto sono sensazioni sensazioni purtroppo non troppo positive sulle sue condizioni fisiche e sul suo apporto nella seconda parte di stagione e sensazioni non troppo positive su una sua permanenza a lungo in bianconero veniamo a Cherubini perché è sicuramente insieme ad Allegri il trade union con la precedente Juventus con quella nuova che sta nascendo e che verrà certificata con il CDA del 18 di gennaio in tanti danno Cherubini come uscente come diciamo ulteriore elemento di discontinuità con la Juventus sostanzialmente che si è interrotta con le dimissioni del CDA del presidente Andrea Agnelli e con la nuova che nascerà però va detto una cosa e voglio fare questa riflessione con voi al di là del fatto dell'apprezzamento che ho espresso per Federico Cherubini per il fatto che attraverso le intercettazioni che sono state sbattute su tutti i giornali certamente su Cherubini non è emerso nulla che possa eventualmente comprometterne la sua persona la sua figura e al di là dell'operato molto positivo a mio modo di vedere ma credo anche all'interno della Juventus apprezzato svolto dallo stesso Federico Cherubini in questo periodo si sa le società le squadre o meglio le squadre vengono costruite nel periodo che va da febbraio in poi ora mi domando se la Juventus dovesse costruire la Juventus della prossima stagione attraverso chi la costruirebbe se non attraverso il direttore sportivo attualmente in essere alla Juventus ecco questo mi porta a pensare che Federico Cherubini potrebbe anche essere in segno di continuità con la Juventus che verrà che non esclude l'ingresso di una figura ne abbiamo parlato come Marotta o come Giovanni Carnevali per fare due nomi io sarei per il nuovo piuttosto che per il ritorno di un nome importante ma comunque di un nome che ha già vissuto l'ambiente bianconero detto questo è chiaro ed evidente che è semplicemente una mia una mia idea e chiedo a voi quello che è il vostro pensiero perché ripeto le squadre vanno costruite ora non si possono costruire dal nulla a giugno allora quando presumibilmente ci sarà l'ingresso di un'altra figura nell'area tecnica ma al tempo stesso mi domando se dovesse entrare un nuovo direttore sportivo e spesso il direttore sportivo vuole anche nominare lui l'allenatore per la rosa che ha intenzione di costruire sarà fatto una ulteriore rivoluzione con una Juve che ripartirà per l'ennesima volta quasi da zero con un nuovo allenatore ammesso che non sia confermato Allegri perché su Allegri ovviamente penderanno i risultati che andranno a svilupparsi da adesso in avanti non è detto assolutamente che Allegri non sia l'allenatore della prossima stagione i risultati saranno fondamentali ma qualora dovesse cambiare cambierà anche il direttore sportivo il direttore sportivo che dovrà a quel punto selezionare i giocatori da portare alla Juventus con un progetto che ripartirà ancora una volta sostanzialmente da zero io ho qualche dubbio su questo ce l'ho e quindi non escludo così categoricamente che ci sia questa linea di totale discontinuità con la precedente Juventus anche nella nuova e quindi la figura di Federico Cherubini non è così certa che possa lasciare la Juve come ovviamente non è certo che potrà rimanere però diciamo che costruendosi le squadre adesso da gennaio febbraio in avanti è chiaro che con Federico Cherubini in sella sono portato a pensare che potrebbe anche lui avere un ruolo nella prossima Juventus ditemi la vostra ci sentiamo presto come sempre fino alla fine forza Juve ciao